Ciao Lollina e Lollina! Ciao! Oggi, visto che purtroppo non abbiamo potuto registrare le fiabe della buonanotte, abbiamo avuto l'occasione di andare al cinema, al volevo dire il teatro. Vabbè, è il cinema teatro che sta qui. E volevamo farvi vedere alcuni clip dello spettacolo. Vi ho avuto che non c'è lo spettacolo intero, ma perché spera... Cioè, avevamo sperato che potessero venire anche nella vostra città. Speriamo, perché poi non vogliamo proprio spoilerarti. Perché, ragazzi, dovete sapere che abbiamo fatto 100.000 prove di questo video e io non riuscivo a dire spoilerare. L'ho detto! Vedete tutto negli errori, mi sa. E comunque, cogliamo l'occasione anche per dire che siamo su TikTok. Ci potete trovare, mettiamo il nome in sua propria impressione. Come Francesca C. Ecco qua. Oppure, se non ci trovate come Francesca C., potete trovarci come Chiocciola Franci, trattino basto, si dice no, ma non vi preoccupate, lo mettiamo in sopra impressione. E comunque, se vi fa piacere, seguiteci anche lì. Almeno restate aggiornati, se non escono video o qualcos'altro. Poi potete anche messaggiarci. Sì, infatti. E niente, potetevi lo spettacolo. Via! Al prossimo episodio FANTASIA ... Verso l'immensità Dove insieme E sgueblicano Ti sono Che brutte facce Spero non ce l'abbiano con l' me Vole al Bo Vecino a me Dite a me Proprio voglio l'amba Ai vostri ordini C'è giunta voce che voi domani celebrerete il sacro rito Ma di è vero, io lo ricordo, siete voi certi di affarlo sia io? In questa cosa siamo sicuri, non ricordate Renone e Lietia? Oh, sì è vero, Renone e Lietia, celebro appunto, ma che c'è il grillo? Ora ascoltate, siamo venuti a regalarvi un saggio consiglio Il sacro rito non c'è da fare, non c'è da fare domani nemmai Il sacro rito per oggi, è oggi, è oggi, oggi è già oggi Beh, oggi non posso, ma come sarebbe? Beh, vedi, oggi non mi sento molto bene, ho freddo da cavallo Devo fare molta attenzione, molta attenzione, Renone, devo fare molta attenzione Eh, attenzione, che cosa? Bene, Renone, non mi sento molto bene, ho freddo da cavallo E la mia mano potrebbe non stare ferma nel trasferire tutto nel grande libro del lago Ma proprio oggi doveva venirvi questa dannata sempre Ma io mi domando e dito, proprio a me dove vado di amare a celebrare il sacro rito?